Vittorio, riparte una stagione importante, anche un appuntamento per questo circolo storico importante, cioè l'inaugurazione della nuova Casina Sociale. Sì, appunto, noi il 5 ottobre inaugureremo ufficialmente la Casina Sociale, diciamo il circo è più bello ancora rispetto a prima, è molto più spazioso e naturalmente è un qualcosa che migliora già tutto quello che era esistente al Parioli. La scuola del Parioli è punto di riferimento per tanti giovani che vogliono migliorarsi e un complimento a Moroni che ha portato un titolo italiano, te lo aspettavi? Forse no, è risultato assoluto, però sul ragazzo noi ci puntiamo tantissimo. Infatti lui è l'unico ragazzo Under 12 che è inserito nel gruppo agonistico insieme agli Under 14, Under 16. Di questo io e il mio staff noi ne andiamo orgogliosi soprattutto perché è un ragazzo che viene dalla nostra scuola. È quello che abbiamo iniziato 3-4 anni fa a puntare sui giovani che provenissero dalla scuola SAT o dalla scuola del Vivaio che abbiamo creato 3-4 anni fa, per noi è un motivo molto di orgoglio. Vorrei dire che ci sono anche altri ragazzi di 10-9 anni che presto ne sentirete parlare. La scuola del tennis club Parioli come è organizzata? È organizzata dall'aspetto sociale all'aspetto professionistico, dalla serie D che va per i soci alla serie A maschile e femminile. Abbiamo tutti gli aspetti e programmiamo per ottenere dei giovani che ci rappresentino un futuro a livello nazionale ma anche internazionale. Si parte comunque dal mini tennis, suppongo? Certo, si parte dalla scuola SAT, dal mini tennis. Noi abbiamo creato 3 anni fa un gruppetto selezionato di quelli che si iscrivevano alla scuola. Da 5 a 7 anni l'abbiamo affidato a Francesca Romano per cercare di tirare il meglio della scuola, prendere il meglio della scuola. Poi abbiamo creato un Vivaio che è seguito da Kikko Meneskin che è con il suo staff. E' appunto Vivaio per tirare fuori i ragazziti dal nostro circolo. E gradualmente poi si va all'agonistica, poi si va all'over 18. E' un gruppo diciamo che è la ciliegina sulla torta per un circo perché normalmente un circo non deve seguire i ragazzi più bravi che puntano a diventare professionisti. E' un qualcosa che facciamo in più. Ecco quello che sicuramente è sempre stato al Parioli, i giovani, l'attività giovanile e poi le varie squadre nazionali, sia giovanili che assolute, tipo serie A maschile e femminile. Grazie! Grazie a tutti